Daniele Valle, vicepresidente del Consiglio regionale del Piemonte, oggi l'Alessandria per parlare di molti temi, ma uno che sta particolarmente a cuore agli alessandrini è quello della sanità e nel bilancio della regione la sanità non è certamente privilegiata secondo la vostra opinione, ma in particolare stupiscono le assunzioni, le poche assunzioni mentre i medici ci sarebbero. Certo, noi abbiamo condotto un approfondimento sui numeri, abbiamo visto che anche nel 2022 come nel 2021 e nel 2020 la sanità piemontese perde addetti, quest'anno si parla di un migliaio a livello regionale, per quello che riguarda l'azienda sanitaria